Ciao, tutto bene? Oggi vi preparo una cosa molto bella, visto che questo è il periodo delle fragole. Sto preparando un cocktail a base di fragola leggermente alcolico. Faccio vedere dei prodotti che abbiamo qua, che potete tranquillamente trovare anche nei supermercati. Allora, abbiamo il sherry, poi abbiamo il gin Hendricks, poi abbiamo il scioppo di fragola, poi abbiamo il succo di fragola. E alla fine la fragola fa modo colazione. Intanto cominciamo a preparare, a freddare il bicchiere. Con alcuni suvetti di ghiaccio. Rapprendiamo il bicchiere. E lo lasciamo un attimino. Prepariamo il shaker. Il shaker deve essere quello che volete voi, o il borto o il classico. Mettiamo il tubetto di ghiaccio. Ora mettiamo da parte. Prendiamo il vetro. Mettiamo 2 cl di sherry. 2 cl di gin. 3 cl di succo di fragola. 1 cl di santa. 1 cl di succo di scirope di fragola. Adesso in questo caso mettiamo gli ingredienti non scechi e lo scecchiamo bene lungo. Togliamo il gaccio che è rimasto dentro il bicchiere. Con lo spriner andiamo a versare nella coppetta da coxtel. Vedete che bella schiumetta che fa sopra. Dopo di che prendiamo la frangola per fare la decorazione e andiamo a poggiarla sopra il bordo del bicchiere. Ecco qua, forte alla frangola. Salute!